Totale assenza di manutenzione delle strade cittadine principali e di periferia e assenza di segnaletica stradale e questa la situazione in cui da tempo versano le arterie stradali della cittadina agropolese. Un articolo della normativa posizione e manutenzione della segnaletica stradale recita la segnaletica stradale deve essere sempre mantenuta in perfetta efficienza da parte degli enti o esercenti obbligati alla sua posa in opera. Questo dettato e ignorato dal comune di Agropoli le strisce bianche stradali utili ai pedoni per attraversare la strada in sicurezza sono sbiadite e quasi invisibili. Specialmente di sera urge un intervento immediato a farlo sapere la presidente dell'associazione italiana familiari vittime della strada Ollus Salerno e Cilento Teresa Stone. In diverse zone della città l'assenza di segnali stradali ha provocato una diseducazione da parte degli automobilisti i quali non usano più fermarsi per dare la precedenza ai pedoni che hanno l'esigenza di attraversare la strada. Basta fare una passeggiata sul lungomare San Marco, strada centrale ad alta densità automobilistica, sottolinea Stone, per rendersi conto della quasi invisibilità delle strisce bianche. Altre zone come Madonna del Carmine, Piazza Mediterraneo, Piazza della Repubblica, così come altre parti periferiche della città risentono di una totale assenza di segnaletica ormai sbiadita e a tratti addirittura inesistente. Negli anni addietro, continua Stone, era consuetudine da parte dell'amministrazione comunale rifare in lucca le strade della città in occasione di grandi eventi. Ad oggi, nonostante gli eventi che si sono susseguiti negli scorsi weekend ci sono stati, la segnaletica è rimasta uguale. Infine, i proventi delle multe, conclude la presidente dell'associazione familiari vittime della strada, Teresa Stone, devono essere destinati alla viabilità stradale per assicurare un servizio importante che tutela la vita dei pedoni.